Edano, non sai che mi è successo? Che cosa è successo? Mi è arrivata una bolletta della luce salatissima, senza pensare poi a quella del gas. Immagino Ale, tu pensa a me che devo sistemare casa, ho fatto i preventivi per la riqualificazione, già mi immagino i preventivi di spesa. Fede, ma che stanno dicendo? Di che vi lamentate? Qual è il problema? Che è successo adesso? Lascia stare Fede, mi sono arrivate certe bollette, ogni volta la stessa storia. Ma quando sarebbe bello non pagare i centri esorbitanti per le bollette? Basta chiedere Ale, passa a Green Network Energy. Fai una cosa, aderisci in 5 minuti ed avrai subito convenienza ed affidabilità, lo sanno tutti. Hai visto Ale? Problema risolto! E vai! E vai! Non è che ha un suggerimento per me? La soluzione è sempre Green Network Energy, dirlo tu. Green Network ha mangiato il progetto casa a 12% green, che ti permette di rendere la tua casa green. A costo zero! E vai! Trovate tutte le informazioni sul sito greennetworkenergy.it e quindi uno da un'altra cosa è di rendere la tua casa green, che i segni della tua casa che che si tratta da la tua casa green, e quindi da un mio cuore, che ti permette di fare la tua casa green, e quindi è gratificare il progetto casa, Lo che ti permette di rendere la tua casa green,